Inizio molto bene con Ale, è molto veloce e dopo non ha possesso palla, però difende penso bene, solo il gol, il secondo tempo ancora un gol, però intendo di provare a giocare per un gol, non è facile in Baccellona, però al fine con la grande testa di Thiago segna un gol e 2-2 per me è bene. Sì, questo gol ha bisogno in ogni partita, però in questa partita è la chiave per il ritorno al 2-2, sì, Messi, io gioco un anno con lui, ogni anno è più e più meglio, però lui gioca facile, però la squadra gioca per lui, la squadra dipende da un giocatore, sono un gruppo con 25 giocatori e adesso ha un livello che il mister può cambiare qualche giocatore, però io sono contento a Milan, il primo gioca contro l'altra squadra, però non lo so, è l'ultima partita contro il Barcellona, bisogna tanti punti per qualificare per il gruppo e dopo vediamo contro il Barcellona.